La Presidente del Decimo Municipio, Giuliana Di Pillo, ha ufficializzato l'apertura della stagione balneare il 15 maggio, confermato l'utilizzo dell'app SeaPass e la presenza degli steward agli ingressi delle spiagge libere per scongiurare gli assembramenti. La Regione ha dato la possibilità di riaprire già sabato prossimo e sarebbe un peccato perdere questa occasione, polemizza il consigliere Capitolino Davide Bordoni. Dobbiamo offrire garanzie alle imprese balneari e far sì che possano ricominciare da subito con regole certe e applicabili, conclude Bordoni. La sensazione è che l'amministrazione comunale abbia preso tempo per non farsi trovare impreparata rispetto agli arenini liberi. Intanto il Ministro al Turismo, Massimo Gravaglia, si è espresso in merito alla proroga delle concessioni balneari al 2033, una questione già prodata al TAR per quanto riguarda il litorale romano. È un falso problema perché una norma esiste già, anzi due, chiarisce Gravaglia, una per la proroga al 2033 e un'altra che congela le concessioni per il Covid.